La normativa per la conduzione delle sperimentazioni cliniche a livello europeo ma anche a livello italiano sta per cambiare in maniera molto importante, siamo un vero e proprio giro di boa. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Cagnazzo, l'abbiamo incontrata a Milano in occasione della 39esima riunione nazionale del gruppo cooperativo Mito, uno dei più importanti gruppi europei per lo studio delle patologie ginecologiche oncologiche. Dottoressa Cagnazzo, a che punto siamo con l'applicazione del cosiddetto nuovo regolamento europeo per le sperimentazioni cliniche? In realtà non si dovrebbe più chiamare nuovo ma ci spieghi lei perché. Ecco, a che punto siamo? Di nuovo in effetti non ha niente, domani finisce il periodo di transizione quindi tutta l'Europa dovrà finalmente lavorare secondo le nuove regole del gioco e me in Italia non siamo ancora totalmente pronti. Perché ci aiuti un attimo a ricordare le tappe, è entrato in vigore quando? Il regolamento è in vigore dal 2014, sarebbe dovuto diventare applicativo nel 2016 ma lo è diventato solo ad inizio del 2021, abbiamo avuto un anno in cui ogni promotore poteva decidere se seguire la vecchia normativa o la nuova. Da domani 31 gennaio 2023 tutti dovremo agire secondo regolamento europeo, non avremo più la possibilità di seguire la direttiva e quindi basta con le vecchie regole, tutti saremo sullo stesso binario con le stesse regole, tutti i paesi dell'Unione Europea. Ecco, cosa è cambiato e quindi che cosa dovrà cambiare assolutamente in pochissimo tempo? Quindi la novità più importante introdotta dal regolamento qual è? La novità più importante sicuramente è che ogni paese dell'Unione Europea non avrà una normativa differente ma tutti giocheremo appunto alle stesse regole e non si avrà più una valutazione differente in ogni singolo paese. Quindi un promotore, OneShot dovrà sottomettere la documentazione a tutti gli stati membri che sono in qualche modo coinvolti da quello studio e si avrà un'unica approvazione europea. E quindi tutta la documentazione viene appunto sottoposta, caricata su un sito internet dedicato come succede in America con clinicaltrial.gov? Esattamente, si avrà un analogo di clinicaltrial.gov che si chiama CITIS o portale europeo. Attraverso questo portale la documentazione arriverà a tutte le autorità competente dei paesi europei e a comitati etici coinvolti. Non avremo più molteplici valutazioni etiche come da sempre succede in Italia, ma una alla volta un solo comitato etico valutatore. Ecco, cosa succederà ai 90 circa comitati etici che ci sono adesso in Italia e che sono già molto ridotti rispetto a quelli che c'erano un po' di anni fa? Ecco, questi 90 quanti dovranno diventare e che cosa dovranno fare? Allora, stiamo aspettando un decreto apposito che possa portare avanti il riordino. Sicuramente avremo tre comitati etici nazionali, due sotto AIFA che si occuperanno di sperimentazioni in ambito pediatrico e di sperimentazioni con terapia avanzata e uno sotto l'Istituto Superiore di Sanità. Oltre a questi tre se ne dovranno formare altri 40 denominati territoriali che invece valuteranno tutti gli studi con farmaco o con dispositivo medico che non rientrino nell'ambito pediatrico o di terapia avanzata. E quindi, perdoni, ogni protocollo che nasce in qualcuno dei paesi europei oppure pensato da un'azienda farmaceutica, quindi quelli sponsorizzati, dovrà essere valutato da tutti i 40 più quelli nazionali? No, assolutamente. Di volta in volta a livello nazionale si dovrà scegliere un solo comitato etico valutatore la cui valutazione appunto varrà per tutti i centri coinvolti, indipendentemente da quali e quanti saranno. Ecco, perché come molti sanno nelle sperimentazioni cliniche il fattore cruciale è il tempo di raccolta dei dati e quindi la semplificazione aiuta a fare cose in fretta, perché chi le fa tardi cosa gli succede? La semplificazione è quello che vorremmo, soprattutto in Italia, che da sempre è tacciata un po' di avere un apparato burocratico troppo complicato e dei tempi troppo dilazionati. Rischiamo di perderci, di restare tagliati fuori, anche perché aggiungere un paese in corsa significa un grosso sforzo sia da un punto di vista operativo che economico per i promotori. Quindi se l'Italia non imparerà in qualche modo ad essere competitiva verrà tagliata completamente fuori e i nostri pazienti purtroppo non avranno delle possibilità come al pari degli altri europei. Senti, a che punto siamo con questa rivoluzione? Perché in fondo di quello si tratta. È già tutto pronto o ci sono ancora delle lacune? Cosa è stato fatto innanzitutto? Purtroppo poco. Abbiamo avuto una legge che è la legge Lorenzin nel 2018, seguita poi da un decreto legislativo nel 2019, ma mancano tantissimi pezzi della storia. Manca sicuramente il decreto riordino comitati che ci porterà a identificare questi 40 comitati etici territoriali. Manca un decreto tariffa unica, manca un decreto transizioni e quello che più ci aspettiamo, manca un decreto che riconosca tutte le infrastrutture della ricerca in Italia. Questo è quello che ci deve essere per forza, poi mancherebbero tantissime altre cose. E quindi, secondo lei, cosa succederà appunto a partire dal primo di febbraio? In qualche modo ci abbiamo messo la pezza, perché AIFA ha pubblicato da un annetto a questa parte una proposta di gestione temporanea, quindi attualmente stiamo agendo così. Il problema è che ai promotori questa cosa non piace tanto. O ci velocizzeremo, oppure come tenevo poco fa, purtroppo resteremo fuori, quindi non potremo fare più ricerca come la potevamo fare una volta. I prossimi passi quali saranno? Il prossimo passo che tutti ci attendiamo è la pubblicazione che dovrebbe avvenire nelle prossime ore del decreto riordino comitati etici, in modo da avere perlomeno un chiaro preciso di chi valuterà. I famosi 40. Di fatto possiamo già agire, però appunto non siamo totalmente competitivi rispetto agli altri. Mi auguro che nei prossimi sei mesi comunque il quadro verrà tutto completato e quindi saremo poi pronti a fare bene.